Derby di Ferrara, Spal-Modena, una gara estremamente attesa, c'era davvero un gran pubblico. La Modena dimostra la sua solidità, dimostra qui in avanti con Domini, che era un ex, Palloni viene respinto dal portiere, dimostra, dicevo, di essere una squadra completa sempre di più. Qui Ballotta sbaglia l'uscita e ancora una volta una traversa salva la porta del Modena. È la terza volta in cinque partite. Ancora in avanti la Spal e questa volta Ballotta si riscatta davvero alla grande perché in questa partita è di nuovo un'azione in cui il portiere del Modena, che ricordo aveva 21 anni in quell'annata, Modena che replica ancora con Giovanni Re e il portiere questa volta della Spal che interviene. Poi è la Spal che ci grazia, a volte il Modena lasciava, poi chiederemo proprio a Torroni e Antonio, il Modena lasciava qualche pallone alto in quell'annata, no? Sì, beh... Eppure eravate...